Buonasera, vi ritrovate allo stadio Olimpico Grande Torino, sì, ci sarà Belotti atteso, lui che si è allenato ieri, ha smaltito il problema legato alla febbre, dunque guiderà l'attacco del Torino, c'è tra vanti della nazionale, peraltro vice capitano, capitano Benassi, poco prima della partita, a proposito di, poco prima del riscaldamento, a proposito di Sky Cinema Rocky, quasi continuato perché la colonna sonora era Burning Heart, che è una canzone storica di Rocky IV, tutta la squadra, le vedete, insieme con il capitano Benassi, ma anche lo stesso Belotti ad incitare i compagni, poi vi do una frase che abbiamo captato qua a bordo campo, quando Antonio Bovenzi dava il preparatore atletico, faceva scaldare i giocatori, ha detto questa è casa nostra, ricordatevelo, questa è casa nostra, dunque un incitamento veramente alla Rocky, il Toro in casa ha costruito di fatto la sua classifica, Belotti c'è, come c'è tutto il Tridente, gli Aic, gli Ago Falchi, c'è Barreca che torna dopo la sfida di Crotone, dunque un Torino al completo. Al completo e la formazione tipo, con Benassi, Baselli, Valdifiori, con quella difesa Rossettini-Castano, ormai quasi l'equipo di memoria.